È la prima esperienza in Italia e si pone come punta di eccellenza a livello europeo. È il Centro Servizi Laboratorio Unico di Area Vasta Romagna, inaugurato il 31 marzo 2009 a Pieve Sestina di Cesena. Una maxistruttura a servizio di oltre un milione di abitanti, per gestire a rete unificata le attività che fanno capo alle aziende e unità sanitaria locale di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. La nuova patologia clinica di Area Vasta Romagna si organizza secondo il modello Hub & Spook. Una struttura a rete unisce un laboratorio centralizzato ad alta specializzazione, il centro Hub situato a Pieve Sestina, a sette laboratori a risposta rapida, i centri Spook, posti negli ospedali di Ravenna, Lugo, Faenza, Cesena, Forlì, Rimini e Riccione, cioè i principali centri ospedalieri di Area Vasta e a 93 punti prelievo distribuiti sull'intero territorio romagnolo. Tale organizzazione di servizi, attiva 24 ore su 24, consente di offrire a tutti gli ospedali romagnoli un sostegno tempestivo e di massima qualità nel campo della medicina di laboratorio. Attraverso una filiera intelligente, il tempo compreso tra l'arrivo della provetta e il referto, il cosiddetto turnaround time viene ridotto al minimo, sia per gli esami urgenti, sia per le analisi programmate. Il laboratorio di riferimento centralizzato di Pieve Sestina è la punta di diamante dell'innovativo sistema di patologia clinica dell'area Vasta Romagna. Qui vengono analizzati tutti gli esami esterni e gli esami specialistici di secondo e terzo livello, più di 10 milioni di esami all'anno inviati dall'intera rete. Gli esami automatizzabili vengono effettuati nel cosiddetto Core Lab, operativo 12 ore al giorno per 6 giorni la settimana. In questa stazione laboratoristica, altamente automatizzata e informatizzata, una procedura di lavoro specifica e razionale garantisce l'esecuzione giornaliera e in tempo reale di tutti i principali parametri di biochimica clinica, ematologia, coagulazione, immunometria, microbiologia. Ogni provetta e contenitore di materiale biologico da esaminare, contrassegnati da esclusivo e specifico codice a barre, oltre che da specifico colore, vengono avviati al proprio percorso operativo, secondo il principio l'esame giusto, nel modo e nel tempo giusto per il paziente giusto. Accanto al Core Lab, nel laboratorio centralizzato, operano i settori vocati all'alta specializzazione, dalla biologia molecolare, alla citogenetica, alle sezioni che utilizzano metodologie analitiche ultraspecialistiche. Infine, insistono nella stessa struttura funzioni di eccellenza nazionali, quali l'officina trasfusionale e la banca della pelle con le camere bianche. Grazie alla presenza di strumentazioni tecnologiche ed informatiche d'eccellenza, vengono qui effettuate prestazioni di elevatissimo livello qualitativo, fino a ieri dirottate al di fuori del territorio romagnolo. Collocati nei presidi ospedalieri di Ravenna, Lugo, Faenza, Cesena, Forlì, Rimini e Ricciardo, i sette laboratori a risposta rapida, Laboratori Spokes, strettamente collegati con il laboratorio centralizzato di Pieve Sestina, entrano a pieno titolo nel programma operativo del nuovo sistema di patologia clinica di Area Vasta Romagna e hanno il compito esclusivo di eseguire tutte le analisi di primo livello per i pazienti ricoverati. Il laboratorio unico di Pieve Sestina, presidio comune alle quattro aziende dell'Area Vasta Romagna, vede concentrare nella medesima collocazione fisica altre importanti funzioni come il magazzino farmaceutico ed economale, che servono tutte le aziende dell'Area Vasta Romagna e in particolare tutti i poli ospedalieri e territoriali. Grazie a tutti!